E' ancora molto sotto shock, sicuramente molto turbato, la scelta anche di non rispondere è proprio legata a questa grande situazione. E' ancora sotto shock ed ha deciso di non rispondere alle domande del giudice Alessandro Sacchi, l'ottantenne, che lo scorso venerdì ha ucciso con un colpo di pistola la moglie malata di Alzheimer. L'uomo si trova nel carcere Aretino di San Benedetto, era stato arrestato subito dopo il delitto, l'accusa è quella di omicidio volontario aggravato dal vincolo del matrimonio. Questa mattina l'udienza di convalide il faccia a faccia con il GIP Stefano Cascone. L'impressione che dà è quello che ancora vive in un mondo suo. I legari dell'ottantenne chiederanno appena possibile una misura cautelare e alternativa per l'anziano. In questo momento siamo remissivi a quelli che saranno i provvedimenti del magistrato, stiamo cercando una sistemazione, usiamo questo termine. La casa è sequestrata perciò ci sono dei problemi proprio logistici diciamo. Sicuramente non è il luogo dove pensiamo che potrà stare, quindi appena troviamo una sede idonea faremo l'istanza perché possa uscire. Il delitto nella notte tra giovedì e venerdì all'interno dell'appartamento di Via Legiotto. Poco dopo la mezzanotte l'ottantenne ha impugnato la pistola, ereditata dal padre, mai denunciata e ha ucciso la moglie Serenella Mugnai, 72enne. Poi la richiesta di aiuto ai vicini e l'abbraccio alla donna sino all'arrivo delle forze dell'ordine. La coppia era unita ormai da mezzo secolo e proprio in questi giorni avrebbe festeggiato l'anniversario di matrimonio. non aveva figli e da qualche anno faceva i conti con la malattia degenerativa che affliggeva la donna. Era una coppia unitissima e questo insomma, questo ve lo posso confermare e quindi è veramente un dramma.